Anche con ciao qualcosa, perché io devo vedere il telefono, non si capisce chi è entrato. Cioè, quindi, mandate un messaggio che almeno vi saluto. Oggi faremo un po' di creativa, credo, ma poco poco, spero, credo, non so, con mio cugino Marco. Forse avete già il primo video di Fortnite. Sì, era con lui, infatti giochiamo con lui. Ora, sì, è molto migliorato, anche lui, sì, è anche migliorato più di me, perché, sì, lui gioca. Disponibile ora nuovo, c'è... Dov'è, 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 c'è, 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 un'intr, unisciti al server creativo. Fa due, ti unisci. Ok, ti sta unendo, bella raga. Bellissimo, sto schermato, aspettate che vado a cambiare i pantaloni. Ok, eccomi. No, perché eravamo sui jeans, c'è stato un po'. Comunque, questa schermata di caricamento è una figata. Io tra poco sbloccavo quel genelio di gatto. Grazie. Ciao a te. Ciao. Adesso vengo alla... Sì, sì, aspetta che la cerco. Ehm, dov'è? Adesso devo entrare dentro... Isola 3. Esatto. Oh, cecco. Ciao, dove sei? Ah, sei qua. No, lascela, 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 lascela. Ah, scusa. No, vabbè, sono i cosi per sponare. Per gli aerei? Allora. No, no, sono il punto di generazione. Allora, facciamo un po' di 1v1. Dimmi che armi vuoi. Ehm... Boh, facciamo... Un cecco, uno scar, un pompa, una mitraglietta, così, a testa. Dimmi quali. Boh, io voglio provare il nuovo cecchino. No, non è scusate. Eh, anch'io. Io voglio provare il nuovo cecchino, quindi quello lì. E dopo lo scar... Facciamo uguale per tutti? Facciamo uguale per tutti? Ah, sì, sì. Scar o scar silenziato? O a cappa? No, io a cappa no meglio, perché sono smiratissimo. Uno dei due scar, quello che vuoi, tanto mi va bene uguale. Mettiamo lo scar normale. Poi, pompa qua, il grosso calibro, quello nuovo. Boh. Mmh? E P90. Facciamo la digola al posto della mitraglietta. Mettiamola la digola al posto della P90, perché P90 è molto più scorretto. Ah, ok. Mmh. Ok. E basta. Ok. Vediamo. Ah, è un rampino che ha i tutti i finiti. Ah, sì, è vero. Poi. Bom. Allora, forziere. Io ho materiale, perché ne ho zero? Eh, adesso ti vedo. C'è un lama che cammina. Forza, sì, forza, forza, forza. No, spero. Forza, 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 forza. Forza, 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 forza. Ok, tu ho preso dopo il lama. Fermo, 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 fermo. Ah, ok. Devo avviare la partita. Allora. Ti dovrebbero... Fermo. Guarda, dovresti poter utilizzare i materiali. Ehm, no, ancora no. Ah, dobbiamo avviare la partita. Vabbè, avviamo la partita e basta. Pronto? Sì. Vediamo. Quanto mettiamo? Tempo? Oh. I civuti? Sì, sì. Ehm, scudi massimi. Vai? Oh, facciamo scudi vuoti. Non so, perché col cecchino basta che prendi un colpo e è morto, quindi meglio scudo. Poi vabbè, mettiamo scudi pieni. Meglio. Non fai Africa. Ok, quindi avviare l'isola. Materiali anche, tutti full? Sì, sì, sono, sono, sono già. Non sono io. Tutti già. Ah, ok. Ah, ma non ci sono i colpi. Aspetta, aspetta. Non ci sono colpi. Ah, ma sono infiniti, è vero, è vero, è vero, è vero. Dobbiamo rimanere qua. Dobbiamo? Dobbiamo rimanere inchiamato così. Ok, aspetta che tengo viva voce, ok. Ok, così. Cioè, non so se parlerò tanto, però, vabbè. Mi sta... Mi lagga pure oggi a me. Mi lagga un botto. Mi lagga un botto. Mi lagga un botto. Poi se ne ha, mi lagga un botto. Ii stavano verso Cercopla. Mi lagga un botto. Poi si è. Mi lagga un botto. Mi lagga un botto. Mi lagga un botto ad esserci. no 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 ok 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 che vale? ah va bene si si ok 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 parco parco cosa mi sta costruendo si 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 ah cosa sta facendo? non mi va più avanti ok no per esempio un po che ho messo la di eh si lo scar ma what? ti ho preso in piedi e non hai preso danno ti ho preso in piedi tipo oh che è non ti ho preso in piedi ti ho preso in piedi oh non ti ho preso in piedi mi為 avevo poca vita non ho ancora visto quanto danno fa aspetta anche però no mancato si si ora come il bolt action no Grazie a tutti 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 Non lo so Grazie a tutti 4 kill Buon Grazie a tutti Grazie a tutti Bella Grazie a tutti Grazie a tutti No Io 4 4 What? 200 35? Grazie a tutti So Grazie a tutti Oh cacca Grazie a tutti non capisco cosa no 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 what non capisco dove sei alla fangala sei sopra la montagna non capisco moretti moro sono stato sopra io è stupido anche che va dio ma come hai fatto arrivare fin no dai di quanto mi son visto morire no 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 what? no I don't I I I don't don't con la finestra lì secondo me non ci stava da la finestra secondo me non ci stava tanto però un po' bello oh no no mi si era bloccato il testo della costruzione per editare perché ce l'ho troppo no aspetta un attimo e non spararmi ok applica ma perché c'è il testo troppo non riesco a cambiare armi vicino alle costruzioni ma quanti chi l'hai a 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 no finita no no basta dai oh no ok ok aspetta che metto l'inventario ok 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 oddio quanta vita ho due di vita no troppo epico ok 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 Oh, no. Oh, dicole e pompa io insieme ed è bastante di consiglio. Qua? Eh, vabbè. Poca vita. Poi mi lagga. Ah, sì, qua. Oh, che balla! 156 ti ho fatto! Quanta vita hai? Ehm, 44. Bella. Cacca, ma con la deagle sì, è fortissima la deagle. Perché io sparo col pompo? Dicole tanto, qui è troppo forte. E io faccio così, infatti, perché, cioè, boh, lo vedo dagli youtuber, però è molto forte. Oh, un colpo che prendo. ti ho fatto proprio 44 perfetto sì è vero, è bello, più bello di parco ah, mi sono ingamberato sopra di te ma perché io non sparo poi? ah, quanto è kill? no, ma quanto è killa hai? eh, sei oh, sei oh, sei, sei, sei Sì, non lo so Cosa? Non ho avuto tempo a testare e poter spiccare da lì, se ne ho dato lì, non mi preoccupa Ma non c'è un altro che culo hai costruito in tempo cosa? no che schifo che ho fatto adesso io madonna posso andare a mettere i controlli? cosa? lo metto in controlli ah parlo eh posso parlarmi parlo 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 Grazie. Oh, no. Odio. Verde. 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 De caso. Calma. La musica è la calma. Calma, la sentite il controllo. Cosa? No Non ho capito Cioè ti ho preso in pieno Ma non hai preso Prova a fare F2R2 E continuare a schiacciarli contemporaneamente Ti metti a tavere su a destra Hai visto? Sì, boh, è vero Cioè, è impressionante con il scar Vedi, lo papà ti dico che Dovevo guardare il controller Tu sei impressionante Tu sei impressionante Non è impressionante Non è un controller Ti sento l'ora Non è un controller Oh, oh, shit. No. non hai neanche perso danno sicuro o cacca dura no bella no 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 che stupido mio pensavo che il muro fosse mio e stavo editando si blocca lì non so perché 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 non so Ok, no, mi aveva chiamato un mio amico Sì, sì, ci sono No, prima, adesso che mi ha ucciso Non mi cambiava più l'arma E tipo, mi si era fermato Vabbè Ma quante kill hai te? Siete Due Oh, da parte l'altra Oddio Bella lì Con 18 di vita Sentiamo quanto vi tolgo adesso Eh Abbastanza poca 18 ne avevo Oh Che era questo liceo? Ho fatto quel volere che ne andavano a fare No Cosa? Cioè, tu mi hai fatto 200 200 Cioè, water Ristra lontano No Oh no ancora Ancora Gigi Cosa? No What? Solo agent Ho fatto preso con tutti i santi colpi di scaro Ho preso però No No Quanti kill hai te? Ah Cosa? Uh What? Cosa c'è la scola? A spravo? Cosa c'è la scola? Cosa? Cosa? no quanta vita hai 10 che culo ti ho massacrato oh shit no 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 Grazie a tutti Oh no Cosa? Dove? No Che bello Tutta quella costruzione per... Cosa? 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 Sì, è stato un aspetto. no 110 ti ho fatto quante kill? tipo 30 no dai quante kill hai? 9 tu 7 no shit ah 6 5 4 2 1 bella ciao ok ciao bella partita si ciao 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 ma io non capisco perché la safe è così veloce vabbè mi prenderò un po di danno ma scusate io lo dovrei fare no la mia pistola quando mi dà la pistola io me ne vado la mia pistola e me ne vado una pistola bianca te le trovo sempre quelle schifo di pistole dammela no queste schifo di pistole devo fare l'eliminazione però raga questa ci serve eppure il medikit per questo è buono facciamo così dai una pistola bianca una pistola bianca porco tuo una deagle sarebbe meglio forse no non voglio rischiare spero che ci accontenti sto gioco grazie gioco non serviva trovo qualcosa di più bello però una deagle mi sarebbe grata niente il gioco non vuole accontentarci e noi andiamo verso il parco pacifico non io voglio Quessi? Quessi? Non vi di altri non fai schifo per ora però rega ho imparato a dare il tattico bello lì la cacca di divolo ti spaccola ti rompo il culo non proteggere tutta questa base qua ma bro, ma smettite il mani spiegoula ma basta, randre le pazzio vai qui il tuo Dio dobbiamo rompere le palle no, fate schifo dobbiamo rompere chiedete bro white tu mare amo perché deve essere così rompi palle sta gente Dio con la pistola devo uccidere ok, problemi ora ti rissegono le palle ora ti rissegono le palle tolgo due fate schifo Fiori fate schifo vabbè chi va a guardare quello muori, muori fai solo schifo fai solo spazzatura ma rimangono sempre con tre di vita due di vita mi sono rotto devo killarli sti schifosi mi tengo il jack jack se mi girano le palle se non crepano mai eh, mai donna santa trinità sono anche le doppie pistole bombo almeno ho due almeno ho una kill intanto con pistola dopo vado sugli avamposti voglio sti cazzo non lo frega niente andrà la mamma io vi trombo la mamma ma ci qua sono hacker sono hacker siete tutti hacker fate tutti schifo schifo dai fate tutti schifo fate fate ok mi costruisci schifoso gioco di schifo è inutile di ci qua li ma tacca la faccia lì su saracco cosa? eliminazione pistola ve le infilo sai dove come fai a eliminare con una pistola schifosa bianca dai limbero fallo te cioè arrivo lì col pompa e dopo pistola faccio così non mi interessa hai rotto con la minisa provati provati f*** f*** you è ingiocabile ok la parola ingiocabile la riesci a decifrare ingiocabile non mi serve più sta merda un no io mi ammazzo ma se uno deve fare missioni non può perché sto schifo di gioco no grazie a dio che c'è una jump che se no devo porconare devo andare la su io devo fare l'eliminazione con gli avamposti ma no è un hacker è un hacker ma non può fare solo headshot fa solo headshot ma fa in culo neanche materiale andate tutti a cagare non puoi fare solo headshot in un gioco del genere ok stiamo anche perdendo e quindi è ancora più schifo andate a fare in culo tutti siete degli pezzi di stronzi sterchi di merda e tua mamma al 25% tanto ora mi uccide ora l'hacker va l'hacker va l'hacker morite schifo di epic games in un chargedo che ecc cerco fai schifo Grazie a tutti. Andiamo a giocare di là. Ciao. Ciao a te. Ciao. Fai coppie. Devo fare un attimo una sfida, devi venire con me che mi servi. Quindi seguimi. Ma tu giochi ancora? Sì, sì ma non oro, coppie. Ma è bella oro. Ma sì dopo dai. Una sfida devo fare. Ho sblocato lo genito e il pan di pengele. Vai, fai pronto. Ho sciopato anche questo. E questo. Madonna, con la testa fa schifo. Questo qua? Ma non ha senso ci pare una roba così. Questo qua non l'ho fatto opposta. Volevo prendere con un level 500 con la canzone western. Ma l'ho sbagliato a prendere. Facciamo party? No, no. Ah ma ecco perché non mi funzionava. Io ero dentro a un party. Prima abbiamo giocato io e Christopher. Ho fatto due kill tipo. Ho fatto anche una vittoria reale. Io devo fare cercami di doca. Balla davanti a diversi alberi delle feste. Completa acrobazia sul veicolo. E distruggi decorazioni di neve. Tu li hai già finiti i 14 giorni? No ma non mi interessano. Guarda che figo il pan di zenzero che ti dà i 14 giorni. Uso bombe e ballerine. Bellissimo. Hai tanto. Tu ascolti la musica? Matteo. Eh? Tu ascolti la musica? Qua. Ascolti la musica? Vai. Dalla playstation. Dove? Vai buttati. Là del segno. Oddio. Ma del teplano. Devo aprire il teplano? No. Non lo so, vedi te. Devo fare una sfida di ballare su un maniero abbandonato con te. Quindi mi servi. Per cosa? Devo ballare con un avversario su un posto. Devo farti vedere. Mi dà 10 stelle della battaglia, scusa. Ma perché tu hai scioppato il passo? Ma va. Non lo sapevi? No, non ho visto che hai scioppato. Ma io non sono un avversario. Ma. Ah. Lasciami stare. Vieni con me. Ma dobbiamo acquittare? O ci vuole un po' di mare? Eppure continuiamo. No, continuiamo. Perché dobbiamo acquittare? Non so, pensavo. No, vieni. Sapendo che ho provato... Oddio, ma c'è gente? Cosa? Vieni sotto, non la... Ok, vieni sotto. Mi sono fatto male. Dove? Qua. Una capa epica, bella. Vieni, veloce. Di 6? Sì. Ok. Te, vai di là. Vai di là. E devi ballare. Devi ballare su ogni cosa che viene fuori. Vai sopra e balli. Ok. Ok. Finito? No. Bella. Fatta la missione. Ok, grazie. Ora andiamo a luttare. Ho vinto, ho vinto, vero? Che ne so io? Ah, ma qua sotto c'è il coso, Matteo. Matteo. Che è? Guarda. Non lo sapevi, scusa. No. Madonna. Non sono mai andato qua io. A me la gombotto. Buonai qui, decidiamoci. No, no, no. Giochiamo, giochiamo, dai. Lo giochiamo? Ma perché? Oh no, lo giochiamo, incitiamolo. a me è la gombotto. Mi servirà... Mi servirà... Quanto ping hai? 228. Io ne ho 188. Ma io ho la fibra. Hai la fibra a te? Non credo. Non credo. Io ce... Io sono a 200 bilegni, tu quanto ne hai? 300. Che culo. Vabbè, è 100 in più, eh. Poi è pochissimo. Eh, però... dove vai? eh aspetta amiche un rift to goyo qualcuno mi ha sparato non sei te? si no con la pistoletta silenziata blu vero? no a capa è epica è bruttissimo ti stai dotando una casa e non hai niente qua c'è una macchinetta leggendaria quanto vuole con legno? cosa vuole con legno? lanciarazzi quello quadruplo là mattoni? mi pare lo scarso o meno lanciarazzi chi se ne fotte per ferro invece? per famas ho preso lanciarazzi tanto una partita buttata sta qua a me lagga un botto ho mille di ping wow a me sta laggando un botto no no ok ho 25 di ping arrivo non spreco un rift to go vero? no il rift to go serve per scappare ho due o due ah me puoi dare uno tanto oh no li tengo livelli li tengo due ma no dai uno perché mi serve cioè se uno muore cosa facciamo? se uno è a terra l'altro deve scappare perché non riesce a fightare cosa fa? greppa? va bene quanto costa lanciarazzi? ma l'ho già preso io non c'è stare non ha senso avere due no non lo prenderà anch'io ma non ha senso buttare via roba cioè se io ho già annunciarazzi ce l'hai in te non ha senso tanto vieni qua ho vuole una scendina una scendina anzi no uno scuro del 50 uno scuro del 50 lo vuoi? è un po' epico ho votato via uno scendino per niente nemici ce l'ho visti hanno aperto un pacco vieni a fitare veloce è un attimo non so cosa posso fare dato che mi lagga un botto cioè è ingiocabile 19 ma li stai sparando? sì ma dai ho fatto 19 19 ma non ho nessun'arma da distanza ma con cosa stai sparando? eh ero una scorsa però mi hanno beccato ecco ti ho detto lascia perdere oh ce n'è uno qua eh cosa? no 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 cosa? sono hacker ma che cazzo? ma perché ti sei preso non c'era oggi eh mi hanno preso da dito mince se te gli spari di un po' più cazzo non capisci porco si sbira ti ho detto non spararli eh vedi che crepiamo male ti ho detto mi lagga facciamo un aroma sicce come fai sto aroma sicce? bello c'è anche il mirino nuovo aspetta un attimo ok intanto l'ho messo tiro doesста si sai se si chi si sabe che Jasmine Che figata, ho sbloccato la nuova skin delle armi. Sì? Sì, livello del pass 60. Ah, ma tu stai facendo quello del pass battaglia. Beh, ovvio. No, non è livello 70. 60. La skin delle armi. 60. Beh, voglio vedere la skin delle armi a 74. Quella è figa. Voglio dire. È stra bella. Dai, metti pronto che facciamo una partitella. Io sono livello 26. Passo da Twitter. Bello quel ball. Ma questo è più bello. Ma cosa? Non ha neanche senso? Cosa ha senso che ti è storia? Vuoi riuscire a fare sexy da matti. Non ha senso. Oh no. È uno che salta. E basta. Ma scioppa che balli decenti. Perché dopo devi... Cioè, se ti scioppi... Anche questo è bello. Sì, boh, quello è bello. Ma quello che fa... Pinta che gli esplode la testa. Fa schifo, dai. È questo? È quello che plaule? Sì. 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 Pane angeli, salute a fare i dolci. Eh? Gli angeli, l'angeli. Pane angeli. Sì. Eh? È bellissimo sorridere con te. Eh? 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 Ci buttiamo subito. Matteo? Ti sono buttato. Ti segui me. Ti segui me. Ti andiamo qua. Perché l'isola che non c'è niente? Sì. Sì, dott'è? Sì. Io vado vicino. Ci sono tre ceste. Vabbè, prenditele. Vabbè. Vabbè, tre ceste. Ok, tu vai là. Cioè, scusa, tre ceste per due, non è che bastano. Vabbè, tu te ne fai due e una, così c'è niente. Oppure ci scambiamo le armi e le cure. A parte che qua c'è anche un Rift to Go. E sono in live su YouTube. Sì, chi ti segue? Che ne so che mi seguo io? Ma so, chi è in live adesso? Non lo so. Cioè, chi è? Mi lagga, mi lagga, devo spegnere la live. Cioè, raga, ci vediamo la prossima. Cioè, chi è in live su. Cioè, chi è in live su. Chi è in live su. Grazie.